Musica Martedì 17 febbraio, Santa Marianna. È il 48esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 317 al termine. Il sole sorge alle 7.11 e tramonta alle 17.43. La luna si leva alle 5.47 e tramonta alle 16.07. In occasione del carnevale una singolare comitiva di maschere, simboleggianti i sette peccati mortali guidati dal demonio, percorre le strade di Venezia. I peccati sono rappresentati da un avaro, un contadino, una merettrice, un avvocato, un medico, un soldato e un farmacista. Le previsioni per domani. Cielo sereno, qualche nebbia in Valbelluna di notte e fino al primo mattino. Precipitazioni assenti, temperature. Sulla pianura in calo leggero o moderato, in montagna generalmente in aumento. Grazie per lullare.